Il riconoscimento delle attenuanti generiche è una condanna a 5 mesi e 10 giorni. Si è chiuso con una sentenza giunta in rito abbreviato il processo per direttissima successivo all'arresto, avvenuto lo scorso 9 ottobre a Domodossola, di un 52enne ossolano. Accusato di stalking nei confronti della ex compagna, dopo che gli era stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa se era visto aggravare Guarda tutto il video, scarica l'app News24, apri TV e cercalo in programmi.